Non ti sento bestemmiare, come mai? Bah, si, ho tirato i due per il primis Ovviamente Il team degli sfigati Sai che non becca Non abbiamo una bandiera, Luca Ti dico solo qua Quattro bandiere Quattro oro Che cazzo vuoi fare? Non sanno che ci sono le strade Tanto ormai Ma si, no ma adesso esco dai Sono 29 Ah infatti è perso Ma non mi ha fatto neanche entrata Ma no Infatti volevo uscire io Ho fatto 29 ma squadra di sfigati Completamente chiusi in base nostra Torna almeno Quella è metà Micidiale Sega bene le persone Già facciamo Proviamo un 128 Già facciamo Crawford Giacomo ti unisci o no? Ma un secondo Fatene una Siamo nella fase testa di ponte Gli becca bene Sto periodo a farcela fare Adesso Adesso Ho periodo Miglioramento nel playlist Ormai Quello che è Adesso ho tutto In diretta Questi tiro madonna Ho scelto l'arma Me l'ho dovuto far riscegliere un'altra volta Possiamo disturbare il rifornimento di munizioni Ma quello che è in più è tutto regalato Fornisce armi e veicoli alle truppe statunitensi Assaltate l'impianto Eliminate la resistenza e trinceratevi Non fatevi respingere Vi ricontatteremo nel tragetto Chiudo Chiunque abbia un metto Mi prelevi A livello di prestazione Gira bene Vedi Ma fai tirarlo giù Siamo buttati giù in due Due Aspetta fermati Sta arrivando qua Eccolo Ok Qualcuno mi dia un passaggio Il settore delta è sotto il controllo americano Aereo destra Sti razzi che partono Mi confondo Vedi Di partire sti razzi Invece sono Sullo sfondo Raggiungiamo quell'indicatore Qui a sinistra Occhio che Al sedio Accerni 1 Iniziato Destra 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 Vai avanti a destra Avanti a destra Qua però non passiamo Luca E' importante E' importante Far Passi guarda Guarda che passi Se vi serve C'è un pacco di supporto pronto Se ti togli da sopra il carro Coglione Che non vedo Ma togliti da Cazzo Questo stronzo qua C'è un carro dietro Occhio davanti Ci sparano Fianco destro Carro destra Carro qua destra Parro qua destra Luca Qua destra Eh non lo vedo Sto guardando un altro Aspetta destra C'è un carro qua C'è un carro là davanti C'è un carro lì avanti Lì avanti Sta sparando No quello ci fa male Luca Eh lo so Aspetta che non si muove Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Non si muove Sta arrivando Sta arrivando Sparagli Non si muove Sparagli Dov'è? Chi è? Ma Marta Stata Lì Da L'icottero nemico Sul mio segnale Distante a 200 metri Dammi un passaggio Sei morto Luca o vivo? Eh ero morto Eh ci sparano da destra Non riusciamo avanzare Qua davanti Avanzare e conquistare Vedi no Ci sparano da destra Mille cecchini Capirano Arrivano No dentro è uno Luca Abbiamo preso il settore Bravo E due Arrivando una jeep Verso di te Vieni con me Conquistare obiettivi Gli americani Avanzano rapidamente Occhio C'è uno Due Nasconditi Controlliamo la maggior parte Dei settori sul campo Vieni con me Vieni con me La nemica individuata 60 metri dalla mia posizione E' rimasto uno Non lo vedo E' qua dove sono io morto Con lo scudo Prego Già 0-3 Vero cazzo Siamo Sono andato con qualcuno Bloccato L'ho preso Dai A me ne ho due E' un po' a sussire Sono 5-0 Ma sono condenato con uno Bloccato dentro dei muri No porca Avanzi Attacchiamo Buona fortuna Un alleato è a terra Le troppe americane Mostrano segni di logoramento Ma ma ho finito i colpi Cazzo Luca 7-0 C'è uno con noi 29-0 AC Mazautus C'è uno con il centro O sopra qualche mezzo Io sono andato con uno Sono bloccato nel muro Non posso muovermi Fai rischierti Eh ho capito Porco dio Che vuoi fare Se è bloccato nel mio Sì C'è uno con il tutto C'è uno con il tutto Sì 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 ma che cazzo di arma è di merda ho preso e sparava colpo singolo perché la 91 sparava colpo singolo adesso perché col V puoi cambiare la modalità di fuoco si l'ho cambiato ma mi dava tre colpi ok ma no c'è uno c'è uno c'è uno dai Cristo un caricatore aburante è rimasto è lì dietro Luca è lì dietro morto morto vai Cristo madonna gli ho sparato per prima delle volte fa ma incantare niente ne avevo quattro che mi sparavano ma vaffanculo vabbè siamo in base loro siamo dei cazzoni noi sta qua vabbè andiamo di là dai andiamo c1 ci diamo c1 c2 io no non riesco neanche a prendergli nella mira che vuoi il giro buono vado in c2 sei morto nasci con me è morto sei volte occhio c1 ho visto eccolo qua c'è un altro c'è un altro mi dice che c'è un altro preso Luca qua 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 cazze pieno indietro tiramato partita forze nemiche a charlie uno oh stasera non vanno dentro non so a me si no continua a morire non vanno dentro colpi guarda io c'è sto facendo eh guarda io 2 2 7 non mi insegna le colpe uno dei nostri obiettivi è sotto attacco ok ci siete lì dietro 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 Luca merda dietro e davanti vaffanculo resisti solo un momento abbiamo occupato l'obiettivo charlie 2 le nostre truppe hanno catturato il settore charlie resta una manciata di settore me li controlliamo quasi tutti niente continuo a morire a vuoto tutti assist mi sta dando a me no ci faccio fatica va no no ma almeno vanno giù no no non faccio in tempo neanche abbinare che muoio hanno usato metà delle loro risorse sta jeep di che è? la nostra ecco ecco charlie 2 è sotto attacco sono gli americani avanzare e conquistare chiamateci in caso di bisogno a porco dio eh ma voglio finire sta merda di ho preso ma non vanno giù no non vanno giù non ne prendo neanche uno è morto un'altra volta eh porco dio qua 3 10 a metà io sto usando le metà mi sembra ah no qua non entrano i colpi non me le regista muoio ancora prima di sparare a cazzo morto un'altra volta questa ai 11 esco e 3 11 18 assist mi sembra che quando non entro non entro non mi regista i colpi che ho fatto se non ti regista i colpi staresti anche la canna non laggo ma 19 2 33 di ping io 26 di ping ma sparo morto sparo muoio vabbè ma dove sei stiamo insieme e non sono anche dove sei e sono qua sto andando verso delta 1 abbiamo c'è uno dei nostri obiettivi è sotto attacco nasci con me quando muori ma non siamo vicini io sto usando le metà mi sembra un laser eh ma il problema è che se non mi entro non mi entro ho il laser sotto qua va qua va server eh che cazzo a fare gola e tra un po' mi fa eh nooo che cazzo mi ha preso scolta io esco quando è finito il server dimmi 22 sono io eh io 3 12 3 11 basta arrivo anch'io mi stanno andando giù come il burro questo ammettare ho detto ho trovato l'arma meta del momento eh sei uscito qua cosa c'è un download boh adesso ti raga tutto questo download lì è app no infatti mi sta laggando che cazzo succede non riesco a rimanere non so cosa sia ma c'era un aggiornamento del gioco eh sì fallo col cellulare stacca il cellulare giacomo sì stai 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 l'rpg non avrà sbloccato e lo sto usando adesso quando va più forte più lento problema che devi essere il porto nell'altro razzo ingegnere dire ingegnere mi manca solo quel finocchio di croc ford per dire fino a chi speci e banano non puoi dire finocchio non posso dire solo è un frutto una verdura e cos'ho detto finocchio è quel finocchio è più più fashion insulto insulto omofobo no non puoi dire neanche finocchio gay o omosessuale transgen quel transgen di croc ford ma ce la fai finessa partita se volete esco cioè grazie come vuoi immazzi solo due ero 23 vabbè abbandona partita ci sei già con aggiornato da facendo ecco il cellulare c'era un aggiornamento del via bellissimo facendo una live del mio desktop dai non mi vede aggiornamento necessario quanto tra è la sua due giga per montare lanciato la partita l'ho perché vincendo era una bella partita 25 giga come 25 giga ma no il 23.55 gb e parola del mio desktop minchia mai anche windows 25 giga di che scusi di app che cazzo ti sto scaricando no preparazione c'era una preparazione di 23 giga e 3 sai che prima fa la preparazione si passa 25 giga non ho capito che cazzo fu la minchia luca mi piace fatto lasciare ero 23 e michele perso delle partite che avevi fatto lasciare quest'ora sarei a zero anche se sono in positivo a nulla prima devo uscire prima che finisce la partita ma io dopo che vedo 3 11 basta